E' la prima ripresa Bravo! Stop! La kick, la kick di affrontare! Non lo ha fatto in giro, eh! Vai! Fatti con la kick! Fatti con la kick! Bravo! Bravo! Veloce! 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 Bravo! Bravo! Veloci! Dai! Bravo! Bravo! Veloci! 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 Stop! Bravo! Bravo! Chiudi! Vai! Chiudi tu, vai! Veloci! Bravo! Veloci! Veloci! Vai dentro, così! Bravo! Vai! Veloci! Bravo! 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 da una prima ripresa grazie 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 e allora per questo primo match a peso di 63 kg vince Aronso Rosso Nabil Rami Rami scomplitivo e grazie 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 premio un grande applauso a Nabil grazie grazie